La notizia del decreto ministeriale con cui Banca Tercas è stata posta in amministrazione straordinaria per gravi irregolarità e violazioni normative desta particolare sconcerto nelle istituzioni politiche locali e regionali. Una notizia sconcertante per le istituzioni politiche poiché non solo l'intervento di commissariamento va a calarsi su di un istituto bancario che da poco meno di un anno aveva accorpato Banca Caripe dando vita ad un progetto di banca del territorio vitale per assistere le piccole e medie imprese e le famiglie consumatrici abruzzesi ma soprattutto rischia di avere incidenze negative sul tessuto sociale e sull'autonomia del gruppo bancario. Direi che è stata sicuramente una sorpresa però sapevamo che c'erano delle vicende che erano osservate dalla Banca d'Italia che avrebbero potuto portare anche a delle reprimende di Banca d'Italia. Questo è un provvedimento molto forte anche eccessivo per certi versi anche perché c'era una disponibilità annunciata dai consiglieri, dal consiglio di amministrazione di rassegnare eventualmente le dimissioni se ci fosse stata una valutazione in questo senso di Banca d'Italia. Detto questo, banca solida e direi anche che staremo molto attenti che questo commissariamento non disperda il patrimonio aziendale, professionale e soprattutto l'autonomia della banca che è stata perseguita per tanti anni ed è una banca solida, forte e autonoma. Quali ripercussioni può avere sul mondo imprenditoriale abruzzese? Ma nessuno perché la banca continua con la sua operatività tranquilla, con la sua capacità di sostenere il sistema bancario, il sistema imprenditoriale naturalmente in un momento di crisi generale di quello che è il fenomeno anche del creditizio. Nessuno pensi che possa essere in qualche modo questa banca oggetto magari di, approfittando di questo momento di apparente debolezza, che possa essere magari oggetto di scalate o di quant'altro. Rimarrà una banca territoriale, dell'abruzzese, con un forte radicamente e con tutta la sua professionalità.